Gli errori più frequenti quando inizi a montare un video. Questa è la domanda che mi ha fatto Andrea qualche tempo fa e ci ho riflettuto e ne ho individuati 8, i più basici. Ve li presento. Ben ritrovati immaginativi su questo canale dedicato a chi vuole creare video, ma videomaker non lo è. Ha bisogno però di promuoversi attraverso i social e utilizzare il video spesso aiuta. Iscriviti quindi se vuoi ricevere degli aggiornamenti su idee e trucchi. Ecco quindi il mio elenco con gli 8 errori più frequenti. Primo in assoluto troppe transizioni o meglio troppi tipi di transizioni differenti. Le transizioni sono quell'effetto grafico per passare da un video a quello successivo. Sono queste qua. Soprattutto i programmi amatoriali ne propongono tantissimi perché sembra che più sono meglio è. In realtà non le devi utilizzare tutte e soprattutto non tutte insieme. In un progetto utilizzane uno, massimo due. Meglio se ogni transizione sottolinea una tipologia diversa di passaggio o concettuale o temporale, quello che vuoi. Con il tempo poi imparerai ad aggiungere le altre. Secondo la durata preimpostata. Ogni effetto, una transizione o l'animazione di un titolo ha una durata preimpostata che solitamente si aggira attorno al secondo. Però lasciare quella è come dire un po' banale, anche perché capita che lo stesso effetto accorciando o allungando la durata dia un risultato completamente diverso e molto spesso più interessante. Terzo, i testi al lecchino. Il principio è un po' lo stesso delle transizioni. Se il programma di montaggio ti propone 200 stili diversi, non è detto che tu li debba utilizzare tutti e soprattutto non tutti insieme. Inoltre, cerca di personalizzare i modelli preimpostati, perché i caratteri tipografici e i colori definiscono te, il tuo stile e la tua immagine. Quindi, soprattutto quando vai a creare video seriali per qualsiasi social, YouTube, Facebook, Instagram o TikTok, anche gli elementi di grafica vanno a definire chi sei e rappresentano il tuo sistema di valori. Per semplificare al massimo in un progetto, cerca di non utilizzare più di due font diversi e più di due colori. Questo è un pochino quello che prescrivono i grafici per i siti web. Quarto, le animazioni eccentriche. Le animazioni sono quegli effetti per far apparire un testo o una grafica in maniera graduale. I programmi ne propongono tantissimi e vale sempre il principio del punto numero uno. Ma oltre a questo, spesso le animazioni sono parecchio vistose, come rotazione, rimbalzi o cose di questo genere. E mi capita spesso di vedere delle animazioni che sono completamente, come dire, non in sintonia, ecco, con il contenuto del video. Un testo che appare da un frame all'altro può risultare magari grezzo e poco curato. Però, ecco, anche magari utilizzare delle animazioni improbabili può ottenere l'effetto opposto. Quindi nel dubbio si può andare sulle cose classiche, come una dissolvenza oppure una slide laterale. Quinto, la posizione dei testi. Lo so, mi spiace, devo stare ancora sui testi, non so, forse perché sono i più facili da correggere all'inizio. Spesso vedo dei testi posizionati in punti dove ingombrano l'immagine. Perché la posizione preimpostata è, nella maggior parte dei casi, il centro dell'immagine. Che coincide, molto probabilmente, anche col punto focale della nostra inquadratura. Nella posizione dove noi mettiamo il nostro protagonista. Quindi basta veramente poco a volte cliccare e spostare il nostro testo in punti dove riesce a completare l'inquadratura invece di offuscarne la visuale. Sesto, i bordi neri. Questi. I bordi neri non si possono proprio vedere. Capita spessissimo quando andate ad inserire delle immagini che hanno un rapporto diverso rispetto al video. Le immagini sono due terzi oppure quattro terzi, mentre invece il video è 16 noni. Quindi è normale che si creino delle bande nere laterali. Basta ritagliare, croppare un pochino l'immagine e ingrandirla. Certo si perderà magari qualche dettaglio nei bordi, ma se si sposta si riesce ad aggiustare. Sette, musica troppo alta. Quando crei il tuo filmato in cui si sovrappone la musica e l'audio impresa diretta, devi scegliere in ogni punto del tuo filmato qual è il protagonista, se i dialoghi o la musica. Di conseguenza vai a regolare l'audio. Se vuoi che si sentano i dialoghi, andrai ad abbassare la musica. Se vuoi invece che la musica sia la protagonista, abbasserai il livello del volume dell'audio impresa diretta. Questo faciliterà l'ascolto e la comprensione e eviterà quell'effetto di confusione che spesso noto nei montaggi alle prime armi. Ottavo e ultimo errore, i buchi neri. Quando percepisci che c'è un disturbo visivo, qualcosa, ma non sai che cos'è. Si creano quando, muovendo le nostre clip avanti e indietro sulla timeline, non le avviciniamo bene uno all'altra. Si creano dei piccolissimi buchi, che nel video esportato saranno dei frame neri, che nella visione danno degli effetti che danno fastidio. Ecco, per eliminarli basta ingrandire tanto la timeline, andare a individuare dov'è il buco e poi avvicinarli. E allenare l'occhio anche non fa male. In alcuni casi i frame neri sono creati volutamente per creare il disturbo percettivo. Ma vi assicuro che si capisce quando sono un effetto voluto e quando sono in realtà semplici sviste. Ok, questi non sono tutti gli errori di montaggio, sono i più semplici da risolvere. E credo anche di aver già dato le risposte a come risolvere questi problemi nei video precedenti. Eventualmente però, se vuoi avere informazioni su altri programmi di montaggio, lasciamelo scritto qua sotto. Gli altri errori di montaggio sono magari più complessi, riguardano il ritmo e il raccordo tra inquadrature, perché non ogni immagine si può raccordare con gli altri. Questa è una cosa un pochino più complessa e non so se interessi e nel caso interessi lasciamelo scritto qua sotto nei commenti che io leggo sempre tutto. Grazie dell'attenzione, se vuoi restare in contatto con me, lasciami i tuoi indirizzi email qua di fianco o qua sotto che ti spedisco il tutto. Metti in immagine la tua storia per creare la visibilità che meriti.